Gentili telespettatori, buona giornata. Lillie Gruber, famosa per essere imparziale nelle sue trasmissioni, cioè è una giornalista schierata a sinistra, molto schierata a sinistra, ogni tanto ha avuto qualche barlume di trasversalità, raramente ha detto qualcosa di imparziale su alcuni fatti, ma al 99% è super schierata nella tifoseria di sinistra e ha il suo programma di sinistra in una televisione di sinistra, dove i suoi ospiti sono sempre agguerritissimi, ideologici e faziosi di sinistra. Il quadro è completo? Bene. Anche lei, Lillie Gruber, strumentalizza e sciacalla sul caso Giulia. Pensavate che gli sciacalli erano solo politici di dubbia intelligenza? No. Pensavate che lo sciacallaggio veniva fatta da persone semi sconosciute per avere un po' di notorietà sui giornali? No. Lo sciacallaggio e la strumentalizzazione oggi arriva da tutti gli ambienti di sinistra, politici, giornalistici, da piccoli scrittori, piccoli comunicatori che tentano di farsi strada trovando la frase ad effetto, sperando che sia poi riportata da qualche giornale per diventare un po' più noti e avere un po' più di notorietà, poi porta anche soldi. La notorietà è un binario parallelo ai soldi. Più noti siete, più soldi e più siete riconosciuti in una società che si basa solo sulla visibilità, i soldi. E così Lillie Gruber dice che la Meloni è espressione di una cultura patriarcale. Allora, che cos'è il patriarcato? Allora, è un tipo di organizzazione familiare contrapposto al matriarcato in cui i figli entrano a far parte del gruppo cui appartiene il padre, da cui prendono il nome e i diritti che essi a loro volta trasmettono ai discendenti diretti o prossimi nella linea maschile. Patriarcato, come ad esempio nelle famiglie nobili, il titolo nobiliare, principe, barone, visconte, duca conte, vengono tramandati in linea diretta al primo genito maschio. Cultura patriarcale. Nella cultura patriarcale, io in questi giorni ho guardato diversi film di Alberto Sordi, due del 1955, uno del 1958 e ieri uno del 1969 con Monica Vitti. Io so che tu sai che io so. Bene, nei film degli anni 50 si vede chiaramente la cultura patriarcale, dove nella famiglia l'uomo comanda, l'uomo zittisce la donna, stai zitta, non parlare, zitta, torna a casa, fila a casa. Ecco, vedete proprio che in questi film viene raccontato, non è in maniera sarcastica, non viene raccontato come una barzelletta. in questi film che ho visto, uno del 1955 e due del 1958 con Alberto Sordi, si vede proprio una fotografia della società patriarcale in quegli anni. E' l'uomo che decide gli investimenti, è l'uomo che decide tutto, è l'uomo che zittisce, è l'uomo che comanda in casa, è l'uomo che può tradire, mentre la moglie no. La moglie sa e sta zitta, mentre l'uomo dice io faccio quello che ho voglia, io vado dove ho voglia, è chiaro, diceva Alberto Sordi. Quindi la società patriarcale c'è, stata e naturalmente piano piano negli anni, nei decenni è diminuita, ma ancora in alcuni casi c'è, anche se ormai la società è quasi libera dal patriarcato, la società italiana. E' una società, un sistema sociale in cui gli uomini detengono in via primaria il potere e predominano in ruoli di leadership politica, autorità morale, privilegio sociale, controllo della proprietà privata, in sociologia. Beh, voi sapete che in Italia gli uomini guadagnano di più delle donne e questo deriva proprio sempre da quello che vi ho appena raccontato, eccetera, eccetera. La Meloni, secondo la Gruber, rappresenta la società patriarcale, no? Dio, patria, famiglia. Perché? Perché è un governo di destra, un esponente di destra la Meloni, la destra ha sempre difeso la tradizione, ha sempre difeso la cultura, la tradizione, la destra è conservatrice, cioè tende a conservare le cose che vengono dal passato, le tradizioni, la cultura che viene dal passato. Quindi la sinistra è più tendente alle famiglie aperte, gender, LGBTQ+, non mi ricordo più come è tutta questa sigla. Quindi nell'ideologia collettiva la sinistra è più incline all'apertura di tutti i tipi di famiglia, eccetera, eccetera, mentre la destra è chiusa più su la famiglia classica, la famiglia, quella uomo, donna, figli, con dei ruoli magari più definiti. Ecco, destra e sinistra sono sempre stati definiti in questo modo. Il punto è questo però, che Lilly Gruber utilizza oggi dire che Meloni è espressione di una cultura patriarcale perché è un giochino che si fa in comunicazione, in sociologia, che è quello di dire come posso arrivare dal caso Giulia a incolpare la Meloni? Praticamente sembra impossibile, uno squilibrato che fa quello che abbiamo fatto, cosa può centrare Giorgia Meloni? Allora si fa un giochino che si utilizza in modo conscio o inconscio. Allora Giulia, la colpa di quello che è successo è la società patriarcale e quello che è successo con Giulia, che può essere ricollegato a una società dove l'uomo vuole comandare, vuole tenere il controllo sulla donna, caso Giulia, società patriarcale, c'è oggi un governo di destra che ha le radici conservatori, conservatrici, allora un governo che ideologicamente potrebbe sostenere la famiglia tradizionale anche patriarcale, allora se oggi c'è un governo che teoricamente sostiene questa cosa qua, il caso Giulia è colpa della Meloni che è capo di un governo di questo tipo perché fa continuare l'idea della società patriarcale e la gente continua a comportarsi così, quindi caso Giulia colpa di Meloni. Avete capito come funziona questo giochino? Arrivederci a tutti e grazie.